Sono un consigliere, dimmi, dimmi, non sto facendo foto a nessuno, non sto facendo foto a nessuno e non mi metti assolutamente paura, sono guai, non sto facendo foto, queste sono le persone che vengono qua a produrre, è normale, no? Ok? Non mi fate paura, nessuno mi può fare paura, sono qua, io sono tranquillo, voi voi siete tranquilli, io sono tranquillo, non preoccuparti, bravo, ecco queste persone che entrano, ecco che gente c'è alle cascine. Riesce alle valli 50 neri di cazzo da questo giardino, non ci si fa, qui c'è gente che... I ragazzi di colori che stanno reticando, non so cosa potrebbe essere successo, quindi la situazione è agghiacciante. Grazie.